Si ferma il Giro d'Italia per l'ultima pausa prima della volata finale nella terza settimana di corsa. Durante il weekend protagonista il nord-est con la tappa sul famigerato Monte Zoncolan e quindi con l'arrivo a Sappada, traguardi friulani dunque, visto che l'ultimo comune è passato dalla provincia di Belluno alla regione confinante. Dominio britannico prima con Froome e quindi con Yates, in momenti probabilmente cruciali per l'esito finale della manifestazione, con momenti davvero esaltanti per l'entusiasta pubblico triveneto che ha affollato le strade del Giro. Ora, martedì 22 maggio, la super cronometro Trento Rovereto, interpellato al proposito un grande trentino delle due ruote Francesco Moser, questo il suo commento. Il tracciato è pianeggiante e si può sviluppare tanta velocità, l'unico problema è il vento, dopo pranzo soffia sempre contro. L'olandese Dumoulin, commenta Moser, risulta certamente favorito ma difficilmente, credo, prenderà la maglia rosa. Comunque vada, diciamo noi, il fascino della corsa ha ancora una volta fatto centro.